Rimaniamo nella parte ospitalità e però allarghiamoci alle terme perché chiamo Massimo Caputi che è presidente di Terme di Saturnia nonché di FederTerme. Grazie a tutti. 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 dietro alla Francia, alla Spagna, alla Slovenia. Cos'hanno di più loro? Organizzazione, sistema statale? Ma hai già dato la risposta, la tua domanda è già la risposta. Noi siamo fortemente carenti sul sistema organizzativo a livello di tutto il turismo e del turismo sanitario. Tra l'altro c'è un settore che è proprio quello del turismo sanitario che fa dei flussi impressionanti, addirittura sono arrivati paesi come la Turchia a trarre turismo sanitario, mentre noi abbiamo le migliori forze competenze sanitarie d'Europa e non abbiamo flussi. Adesso Federterme lancia tra poco con il contributo, tanto è uscito su tutti i giornali del Ministero del Turismo, un progetto che abbiamo inseguito per due anni di creare una piattaforma europea del turismo benessere sanitario, sul modello di Spain Cares, perché gli spagnoli l'hanno già creata e questo è il problema. Cioè noi dobbiamo avere molta più organizzazione e anche i modelli di promozione del nostro turismo devono mutare. Io per esempio personalmente non sono molto favorevole alle fiere, perché le fiere alla fine le vedo molto come turismo economico, più che turismo di promozione dell'incoming e le imprese devono fare uno sforzo di aggregazione su tutti i livelli. Ripeto, il dato di prima, qui c'è Elisabetta, Fabri, c'è il dottor Burge, eccetera, noi abbiamo l'80% di alberghi ancora in mano a singoli e questo chiaramente non consente una massa critica di aggregazioni, quindi è un processo naturale, anche perché se no i gruppi mondiali ci stritolano, con il loro meccanismo dei punti, dei loyalty card, dei fideli, eccetera, ogni anno loro partono 5 milioni di associati, una montagna di punti ci stritolano. Stanno iniziando a acquisire strutture termali in Italia, gli stranieri o ancora non hanno guardato la sua paese? No, ci sono state acquisizioni incredibilmente da investitori russi più di tutti, ma perché? Perché i russi amano le terme italiane, i russi amano le terme italiane e hanno investito parecchio, in questo momento abbiamo circa 14-15 strutture comprate da investitori russi, il processo ovviamente in questi 14-15 mesi si è fermato per le note vicende, però questo diciamo è già un segnale molto forte, peraltro la clientela russa è una clientela altospendente, una realtà di cui mi occupo, noi abbiamo il 25% dei russi che però fanno il 50% della spesa. E come sei arrivato a Terme di Saturnia? Ma per assoluto caso, perché un investitore estero con cui lavoro da 20 anni mi ha detto se volevano comprare un immobile e valorizzarlo e cederlo, dopodiché ho capito che è un mondo che è un immobile che non sapevi... Era a Terme di Saturnia, è una realtà unica, tutte le terme italiane hanno un heritage impressionante, purtroppo qui il danno lo ha fatto il pubblico quando ha tenuto le terme pubbliche e non le ha privatizzate e a un certo punto le ha fatte fallire, caso emblematico Montecatini piuttosto che altri, quindi sostanzialmente è un caso, ho scoperto un mondo, come dico io il progetto della tardetà, sostanzialmente ho scoperto un mondo assolutamente affascinante con delle capacità totalmente inespresse, perché effettivamente ci sono, ecco, magari in questa sala o chi è in streaming, perché vedo molti colleghi in streaming a vedere i messaggi che ricevo, sostanzialmente chi soffre la psoriasi cura nelle acque termali giuste la psoriasi molto meglio che con qualunque farmaco, questo è anche un tema di prevenzione di cura ma anche di costo sociale, cioè oggettivamente le acque italiane sono molto forti chiaro, e dicevi quindi questo investitore ti ha chiamato, il progetto si, poi ha detto vendiamo gli immobili, ho detto no, non lo vendiamo e lo avete comprato? e da lì andiamo avanti e da lì è parita Termitalia, adesso si chiama Termitalia il gruppo? si, si, Termitalia, abbiamo preso altri complessi, li stiamo sviluppando quindi oltre a Saturni avete? altri sei complessi che sono Chianciano mi sembra? Chianciano, Salice, San Gemini, un pezzo di Sasso Maggiore, una realtà Milano e ne stiamo prendendo altri due ma sono coperti da segretti ma il vostro obiettivo principale è avere la gestione totale delle terme e dell'ospitalità o avete anche solo, o preferite gestire solo la parte termale e trovare partner? ma noi ci stiamo specializzando nella parte termale anche se diciamo il resort è un'eccellenza fa dei numeri incredibili rispetto a quello che abbiamo preso siamo ampiamente soddisfatti però diciamo l'obiettivo è sempre dare del benessere alle persone in modo scientifico quindi la parte medica ha una sua importanza che è anche la parte più complicata perché oltretutto in Italia i medici non si trovano quindi abbiamo proprio questo piccolo problema ma questo deve essere l'obiettivo anche dei miei colleghi anche di tutto il sistema cioè abbinare un sistema oltre che di benessere puro di prevenzione e riabilitazione perché poi diciamo la popolazione tende a invecchiare ma tutti vogliono invecchiare bene vivere meglio e vivere di più perché vivere 80 anni su una sedia a rotelle non lo vuole più nessuno e questo è un sistema che cambia totalmente è fortemente attrattivo anche per gli investitori ma la prima non si trovano medici poco prima abbiamo parlato del personale anche voi avete una tematica su questo aspetto? ma guarda il problema è piuttosto serio purtroppo io dico che il PNRR doveva essere l'occasione di resettare il turismo italiano e fino adesso non l'è stato speriamo che questo governo che ha detto che avrebbe modificato il PNRR lo faccia alcuni colleghi che sono qui presenti sanno che io su questo sono molto drastico cioè fondamentalmente è uno degli elementi su cui devono far investire le imprese e la formazione allora è inutile noi abbiamo un cuneo fiscale che ci danneggia danneggia tutto il sistema tra noi e lo spagnolo e il dipendente spagnolo c'è una differenza di quello che si mette in tasca perché poi giustamente il dipendente vuol sapere quello che si mette in tasca i nostri ragazzi migliori vanno tutti all'estero vanno a Dubai piuttosto che a Londra abbiamo un problema noi non abbiamo una vera scuola di formazione di altissimo livello come ce l'hanno in America come ce l'hanno in Svizzera e non riusciamo a farla perché ogni tanto arriva qualcuno che dice adesso facciamo la scuola di formazione sì ci abbiamo provato anche noi ma chi ha 150 anni di storia troviamo i docenti docenti multilingue che vengono in Italia è veramente una cosa complicata allora molti imputano al reddito di cittadinanza sicuramente il reddito di cittadinanza sulla fascia bassa ci ha creato qualche problema sicuramente ma noi non troviamo nessuno non è che non troviamo il cameriere di sala non si trova nessuno mi sfido a voi io devo assumere sei spam manager non ne trovo una e non c'è in Italia una vera scuola di spam manager cioè la prenderemo austriaca c'è una roba che grida vendetta questo è il problema il punto è che è stato fatto un tentativo che si chiama fondo nuove competenze a cui forse alcuni colleghi hanno perché di soldi ne hanno dati tanti apriamo e chiudiamo questa parentesi quindi non si può dire che non abbiano dato soldi poi dove è un'altra storia fondono le competenze che è stato il primo caso che ha consentito di finanziare la formazione direttamente alle aziende solamente che è stato fatto per quelli che non mettevano le persone in cassa integrazione mentre questo è un modello da perseguire cioè noi dobbiamo fare una formazione diretta controllata, vigilata eccetera noi in quest'anno tra 2023 e 2024 dobbiamo assumere circa 200 persone cioè la formazione non posso farla fare agli istituti di formazione che mi fanno le estetiste pregevolissime ma che sanno mettere lo smalto cioè è un altro mondo gli operatori del benessere in Italia non ci sono come non ci sono i metri come non ci sono gli spam manager eccetera non so Isabetta o Burgio che cosa riescono a trovare ma veramente c'è un problema di formazione gravissimo in Italia e chiudiamo con il suo gruppo voi credo che siete più soci se non l'ho capito male di Termitalia no, oggi è in capo alla mia famiglia in capo alla sua famiglia che visione ha del futuro? come si vede tra 3-5 anni questo gruppo? beh, guardi, probabilmente uno dei gruppi leader nel settore termale c'è spazio per tutti speriamo che anche gli altri si aggreghino in altro modo noi dobbiamo, ma questo vale per tutto il nostro sistema turistico per tutto il nostro sistema un invito a tutti gli operatori io pure mi diverto a gestire one-off ma è una cosa sbagliata una cosa che non ha nessun senso in futuro quindi noi dobbiamo creare aggregazioni su tutti i fronti se no, lo ripeto, verremo stritolati dalle catene mondiali che siano benessere, che siano ospitali, che siano ristorazioni e veniamo stritolati, questo è il punto quindi, diciamo, continuare l'aggregazione e poi si vedrà l'obiettivo di avere nel 2025 circa 15 complessi ok, beh, già diventerebbe interessante interessante, magari vi cuoterete e farete qualcos'altro niente ha figli che sono già in azienda? ho figli che non sono in azienda e non ce le faccio entrare e va bene così va bene grazie Massimo, a presto